Il premio Campiello arriva a Padova il prossimo 29 maggio in cui si decideranno i cinque finalisti tra i quali verrà decretato il vincitore il 19 settembre a Venezia. A ricoprire il ruolo di presidente della giuria quest'anno c'è il nome prestigioso del giornalista e storico Paolo Mieli che tra tanti titoli nel suo ricco curriculum vanta quello di direttore della stampa e del Corriere della Sera. Questo premio è diventato non solo uno dei concorsi letterari più prestigiosi ma anche una manifestazione culturale tra le più importanti seguite in Italia e rappresenta l'espressione delle energie e dell'impegno degli imprenditori del Veneto nella promozione della cultura. Voglio infine rivolgere un ringraziamento particolare a Carlo Nordio che con professionalità e intelligenza ha presieduto la giuria dei letterati nelle ultime due edizioni, afferma Enrico Carraro per la prima volta presidente della fondazione Il Campiello e di Confindustria Veneto. Al 58esimo Campiello possono partecipare i romanzi pubblicati per la prima volta in volume tra il primo maggio 2019 e il 30 aprile 2020 e regolarmente in commercio. Non sono ammessi saggistica né poesia né opere tradotte in italiano da altre lingue.